Il comune di Cantù boccia il referendum che avete proposto contro la moschea che vogliono costruire, lei come commenta? È uno schiaffo ai cittadini canturini, è uno schiaffo alla democrazia, si impedisce ai cittadini canturini di poter decidere le sorti della propria città. Noi abbiamo dato la disponibilità a chiamare in causa il popolo, abbiamo chiesto che fosse il popolo canturino a decidere del proprio futuro, a decidere se fosse giusto oppure no avere a Cantù una moschea, l'amministrazione timorosa di perdere la poltrona, timorosa di un esito che avrebbe seppellito di voti e di firme questa amministrazione, impedisce e mette il bavaglio al popolo canturino. È una schifezza, è una scelta che fa vomitare, la Lega però non molla, noi continueremo perché la moschea Cantù è contraria ai valori di civiltà che la cultura canturina da sempre difende e sostiene.